Questa sera parte la preparazione non solo atletica fuori dalla vasca come abbiamo già detto con Fabio Desiati ma anche quella in piscina con te. Durerà fino all'inizio del campionato, ci vuoi spiegare un attimo come funziona, come sarà strutturata? Adesso è soltanto di nuovo un avvicinamento all'attività in generale anche perché non sappiamo quanti di loro effettivamente in questo periodo hanno lavorato quanti magari hanno fatto altre attività ma comunque sono tenuti un po' in condizioni. Quindi iniziamo in modo blando, è anche un modo per rivederli, per vedere le condizioni. Questi primi giorni faremo tutti insieme, quindi il gruppo Juniors, Serie B e Serie A e poi inizieremo un po' a lavorare in maniera suddivisa. Poi piano piano andiamo un po' a lavorare, a migliorare la parte della palestra o a aumentare i carichi, a programmare quella che poi sarà effettivamente il nostro lavoro. Ancora questa fase qui e questi giorni qua sono quasi di avvicinamento, di tranquillità, per rivederci, insomma, forma tranquilla. Quando si parlerà di qualcosa più di tattica o comunque si proveranno schemi, magari più in là ovviamente, non subito, ma a ridosso del campionato o magari già dopo il primo mese comincerete a lavorare anche sulla tattica? Guarda, quest'anno adesso ci sarà una riunione sabato con la Serie A1 e una partita dimostrativa tra Lazio e Florenza proprio per vedere le nuove regole. Quindi cercheremo anche di capire le difficoltà che ci sono nell'apprendere questi cambiamenti che ci sono stati nel regolamento. Quindi probabilmente potrebbe essere anche necessario un po' stravolgere quello che è la normalità, quindi magari anticipare un po' le fasi, quelle di gioco, di situazioni, di partite. Proprio perché così cerchiamo di arrivare prima possibile a capire certi meccanismi perché in effetti certe regole modificano molto quello che può essere poi la gestione della partita. Quindi prima riusciamo ad arrivare a certi meccanismi e poi magari possiamo comunque lavorare sul resto. Per concludere ovviamente ti vorrei fare una domanda di mercato perché poi ovviamente all'estate si parla di mercato. Credo, magari dammi tu la conferma, che il mercato sia chiuso sia in entrata che in uscita, questo magari me lo confermerai adesso tu. Vista la situazione attuale del mercato sia in entrata che in uscita, apparentemente sembra che un po' questa SNC abbia perso, non so se sei d'accordo con questo. Ma se andiamo allora, innanzitutto il mercato ancora non è definitivamente chiuso e Simone Feoli che insomma si è occupato di tutta questa fase importante e lavorando anche secondo me in modo egregio anche per quello che erano le risorse della società e soprattutto le condizioni per cui si doveva muovere sul mercato per quanto riguarda eventuali rimborsi. È una squadra che sulla carta magari perde di individualità e sicuramente di qualità nei singoli perché comunque insomma Carcaterra e Teodogas e lo stesso Gianluca Muneroni. Abbiamo sostituito comunque quelle pedine e Simone secondo me si è mosso molto bene perché magari perdiamo un pochino a livello di fronzoli, magari perdiamo a livello di individualità, però probabilmente potremmo avere una squadra più, più un organico che sia più coeso nei momenti del gioco. Quindi questo sta a noi. Sicuramente la parte importante potrebbe essere dettata proprio dai cosiddetti vecchi del gruppo, quindi quelli che già stavano qua la passata stagione, che potrebbero dare un ulteriore aiuto nel sopperire a quelle che potrebbero essere, ripeto, delle mancanze, ma a livello di qualità individuale perché Carcaterra e Teodogas sono sicuramente due elementi di qualità altissima. In più abbiamo Zimonic che sarà disponibile in acqua, quindi anche lui dietro ci darà una grossa mano. Quindi sotto certi punti di vista sicuramente presentiamo una squadra che magari può essere più equilibrata, magari meno forte ma più equilibrata. Se riusciamo a fare di questo equilibrio un'arma in più e un'arma vincente, per noi potrebbe veramente significare poter fare un buon campionato. Non abbiamo l'assillo però di avere degli obiettivi come poteva essere l'anno scorso, quindi dobbiamo essere sereni ma allo stesso tempo è importante essere decisi. Bisogna lavorare tanto, bisogna capire che effettivamente per ottenere dei risultati bisogna lavorare parecchio. Oggi inizia questa preparazione, quanto durerà, come si svolgerà in gruppi di allenamento? Allora, mi sono fatto due conti prima di cominciare il campionato. Ho visto che mediamente abbiamo circa 16 settimane all'inizio del campionato che suddivise in un'ora e mezza di allenamento circa tre volte a settimana sono circa 64 ore di allenamento. Quindi la preparazione atletica 64 ore in tre mesi e mezzo sono proprio limitate. Però loro faranno sicuramente anche molto attività di nuoto e riusciranno a arrivare in forma per l'inizio del campionato. La preparazione atletica noi la non cominciamo questa sera e questa sera ancora sarà in forma molto generica e poi via via cercherò di individualizzare i percorsi. Perché? Perché attraverso l'uso di alcune strumentazioni che mi consentono di poter monitorare la loro forza, resistenza, capacità aerobica, cercherò di individualizzare gli allenamenti in funzione dei ruoli. Quindi un allenamento che consiste in potenziamento, resistenza, un po' tutto vai a toccare. Sì, 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 sicuramente, sicuramente. Il mio concetto di allenamento è legato più all'aspetto del potenziamento però a livello generico, più legato alle catene cinetiche, non magari al singolo muscolo. Anche perché è stato visto da molti studi anche fatti all'università quando ero ricercatore a Tor Vergata abbiamo proprio potuto valutare l'efficienza di questo sistema di allenamento. Un allenamento, diciamo, più di tipo funzionale, dove i sovraccarichi sono pesi liberi, soprattutto pesi liberi. Cercheremo di lavorare più sulla coordinazione e sull'elasticità muscolare. Grazie.